Le bollette di luce e gas sono sempre più salate e per i titolari delle attività commerciali è difficile far quadrare i conti. Qui siamo a Catanzaro, pizzerie, bar, passiccerie sempre più in difficoltà. Ma a quanto ammontano fino ad oggi i rincari energetici? Del 300%. Facciamo un esempio. Prima pagavo intorno ai 1200-1300 euro, adesso 3.400-3.500, quindi si sono triplicate. Se prima pagavamo per esempio ogni mese di gas 500 euro, adesso ne paghiamo 1.500, è uguale alla luce. E quanto è aumentata la bolletta della luce? Tre volte, sia la luce che il gas. Troviamo un rincarico del 300% in più sulle bollette della luce, sui beni primari, quindi comunque farina, pasta, anche i cornetti stessi. Quindi stiamo avendo comunque un periodo abbastanza duro, anche perché il mio guadagno sta andando direttamente sulle tasse, quindi sulle bollette. Mi trovo anche io un po' in difficoltà, in quanto vi ripeto, il mio guadagno lo sto passando per un qualcosa che è assurdo. Cioè pagare per 3-4 volte una bolletta che io ne ho consumato, mi sembra un po'. Giustamente noi non possiamo nemmeno caricare più di tanto il prezzo al consumatore finale, anche perché chi viene può prendersi un caffè. Non solo bollette salate, da tempo sono aumentati i costi anche per le materie prime. La farina, noi compravamo un sacco di farina, la pagavamo intorno ai 18-19 euro, da 25 kg. Adesso costa 40. Sono aumentate le materie prime, il latte, già il latte è importante, è aumentato del 40% quasi. L'arte fa tutte le materie principali, le materie prime sono aumentate. Ovviamente poi c'è anche un calo di gente pure, quindi sono aumentate le spese e diminuiti i guadagni. Quindi stiamo affrontando un periodo critico, molto critico. Difficile dunque per i titolari di queste attività resistere a lungo senza interventi concreti. Riusciremo a far fronte per pochissimo tempo, cioè proprio nell'immediatezza quasi, quindi se non si trova una soluzione la situazione è drammatica. Io penso che andando avanti così, la stima che abbiamo fatto anche noi con i colleghi, prevediamo un novembre e dicembre, ci dovrebbe essere proprio un default totale. Non credo che riusciamo a resistere tanto perché pure che magari rateizza eccetera eccetera, poi arrivano le altre e quindi non riesci più, insomma a un certo punto non riesci più.